Sessore Paolucci si parla di sport, oggi in conferenza stampa presentate la modifica a questo articolo 20, più risorse per lo sport abruzzese? Sì, intanto più risorse perché dall'inizio della nostra legislatura nella legge 20 vi erano 0 euro, adesso ci sono oltre 500 mila euro. Ma poi proponiamo un cambiamento perché dopo 17 anni facciamo un vero e proprio tagliando al testo unico del mondo dello sport, ne scriviamo un altro che gran parte raccoglie ovviamente l'eredità anche importante di quella norma ma ne introduce alcuni significativi cambiamenti in modo da bersagliare meglio gli obiettivi e le sfide che abbiamo di fronte, in particolar modo riconosciamo il ruolo del CIP e quindi nel mondo sportivo paralimpico ovviamente diamo grande rilevanza al ruolo del CONI ma inseriamo, e questa è una grande novità, il ruolo dell'ufficio scolastico regionale dei quattro provinciali perché desideriamo, come abbiamo fatto peraltro con i fondi della prevenzione e della sanità, investire molto sull'attività motoria dentro le scuole che è il grande obiettivo che abbiamo di fronte. A proposito di fondi per lo sport abruzzese, in giunta avete deliberato un contributo di 80 mila euro per il comune di Pretoro in vista del Giro d'Italia. Beh sì, è un grande evento quello del Giro d'Italia che raggiunge la sua centesima edizione con una tappa straordinaria che si tiene in Abruzzo in particolar modo che lega e cerca di promuovere ovviamente l'immagine del nostro territorio, la costa e la montagna, la costa dei Trabocchi e la maielletta Blockhouse. Un grande appuntamento per la nostra regione.